Perdere così tanto tempo per cercare di realizzare un governo quasi impossibile si sono visti i risultati. Perché? Perché questa è una Repubblica parlamentare, c'è un Parlamento. Basta mettersi d'accordo sulle leggi che si intendono votare, siccome questo accordo c'era, perché tutti i partiti dicevano di essere d'accordo su cose fondamentali, la legge elettorale, ma anche i tagli dei costi della politica. Adesso ci sono i 40 miliardi da ridare all'impese. Beh, insomma, perché perdere tempo? Facciamo lavorare il Parlamento, non si vota, chi è d'accordo vota e le leggi che devono passare passano. Un governo serve un paese, no? Però se l'orizzonte degli eventi sono 4 o 5 leggi, beh, allora facciamoli fare in fretta al Parlamento e poi eventualmente vediamo il da farsi.